Bella guys, voglio ricordarvi che se volete supportarmi, negozio oggetti, supporta un creatore, con il codice PORTU, accettate, da ora ogni acquisto che farete, vi darà un piccolo supporto, grazie a tutti. Accoglio scontare, every time, yeah, every time, every time, yeah, e fa piglia subito l'arma. Ma raga, non so quanti kill mi sono perso, mi credete per far sta stronzata. No, 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 no. No, 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 no. Sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Mamma mia ragazzi, che cavolo ho combinato, ora sicuro perdo perché ho fatto troppe kill, però mamma mia, mamma mia guys, foglia pura. Mi sono perso due kill, ora potrei stare 11, comunque, ci sta comunque. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Mamma mia, ragazzi, che panico sta partita. No, ragazzi, ho il cuore che mi sta esplodendo nel petto. Se la vincessi raggiungerei pure la 20 bomb, ma... C'è no, proprio no. C'è no, ragazzi. He's got a skops by every time, yeah, oh, every time, oh, every time, yeah. He's got a skops by every time, yeah, yeah, oh, every time, yeah. He, hey. Questo aveva 200 di vita Aspettate, aspettate, aspettate La salvezione non mi sta piacendo Calmi No Stomballa capo, aiuto, non ce la faccio più Voglio scendere, voglio scendere, voglio scendere Ok 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 No, 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 no Ok E' bloccata, ragazzi, che si è bloccata solo a me Che non si è bloccata a voi No, 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 da dietro No No No, raga, da dietro no Perché la cecchina da dietro? Perché la cecchina da dietro? Cazzo No, la cecchina da dietro no, cazzo La cecchina da dietro ti prego no Ti prego tutto ma non quella Tutto ma non quella No, raga, è persa Ho finito le munizioni C'è, ho finito i materiali, è finita Finita, raga Finisce così, voglio, finisce così Non sarebbe dovuto finire così però Non sarebbe dovuto finire così E' finita Ho perso ora Perché ora lui mi spara con lanciarazzi o con una Con qualunque cosa Ok, raga Gli ultimi che sono rimasti Sono veramente fortissimi Ho perso per i materiali Senza materiali dove cavolo voglio andare Qualcuno me lo spiega Siamo ancora in quattro Capite qual è il problema Che non siamo voi Morto Finito Ok, va bene